Ok, prima squadra a terra, il contatto visivo con le coordinate indicate. Cosa vedete, 3-2? C'è qualcosa alla torre? Naturalmente, sì, naturalmente. Allora, cambia il titan, sì. Ok, i piloti scopriamo che diavolo è successo qui. Andate al villaggio, ci troveremo all'ingresso su. Fate attenzione. Eh, non so se mette i canoni arco o razzo quadro. Vai, vai, basta che tu sbrighi. Arco è un giorno uccisi un paio. Dai. Dai. Vai, che cattone ruba la prima. Occhio alle smart, ragazzi, vedo parecchie smart in giro. Gli hai tirato il collo? Sì. Ce l'ho in primo piano, ce l'ho. Uccidi. Non ho detto che sto facendo. Grazie. Morta il bot, morta il bot. Occhio alle smart piani. Ho visto. Come va la ricerca degli ultimi colonici? Se muore, muore. Come ne è io? Come ne è io? Perché li stiamo uccidendo, Yoshi? Perché non ci sono punti. Non ci sono piloti. E li fottono. Ce l'hai sopra un pilota, ce l'hai sopra. Sta a cercare di salire sulla torrella. No. No. Smartiani, 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 ovunque. Quando vai, questo se lo lega a mio. Smartiani, ovunque, ragazzi. Occhio. Innoqui, smartiani, ovunque. Boom. Sono in alto, eh, ragazzi. Non c'è la sua torre ogni tanto. Non c'è la sua torre. E io sono la torre. Oh mio. Nemo lì, Yoshi. Ah, questo non è elevato. Sì, sì. Questo lo metti ai tuoi. Stiamo schiacciando, non bollare. Oh, a cartone, a cartone. La fermo. A cartone, fermo. Ah, scusa, perché? Spera, dimmi che c'è uno sopra, non è in pieno. Due, no. No, ripetono le muscoli, ragazzi. Non ce ne credo. Stai da uno sopra, Yoshi. Ancora. Voglio sapere dove cazzo sta il mio Titan di merda. Ma ho rifinito le munizioni, oh. Bentornato, pilota. Ti ho tenuto caldo in posto. Sì, è un rafferino così. Ho cifrato una trasmissione in arrivo. Non capisco, ci sono voce. Riproducila. Ho tirato un Titan. Eh, fa in tempo a salire sul suo Titan. Fa in tempo a salire, lo spezziamo più alla scala. Lancia subito il primo retto, lo spezza così. Poteva essere la sua occasione di vittoria, ma il suo Titan dura. Scusate, scusate, ho qui davanti il Titan. Nel duraturo della storia. Sette secondi netti, mi dicono. Alla, sistema di vita di basso. Stiamo distanziando l'IMC sempre di più. Ben fatto, calmo. Ehm, non sapeva come volere. Qui atroce. Ma... C'è tutto il tempo. Quanto sparavi? Pensavo di c'era al bossio. Raadio la vostra. Lo acciata. Rock'n'roll. Titan alleato, a te. Tiralo fuori di... Ti ha un grano? espulsione da titan eeeh 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 no eeeh si è auto ucciso attacco da un pilota no, mi sono ucciso da solo il bersaglio è attaccato da un pilota sono riuscito a identificarlo io non lo farei di lì, lancialo oh, oh, 16 yard, grandissimo chiama meccano quando era una recluta lui era già leggera ma non stava dalla nostra banda o lui è andato a pulizino che mi ha danno cazzato la nostra banda si, bruci ma perché sono sono sceso qua, potevo andare in un'altra cosa uccidilo è tuo spectre, uccidilo ancora tu, ancora tu, maledetta sono ancora tu qui chi me l'ha levato guarda 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 ho preso il stecchio chi è sto pilota che sta rompendo indir Se qualcuno pensasse di rifugiarsi qui dentro, è un'impressima idea Potevo andare a casa L'hai preso, Yoshi, l'hai preso, te lo dico, l'hai preso Guarda questo, guarda questo Non manco la soddisfazione di tirarlo fuori, guarda Occhio al nucleare, via ragazzi, via Mi pensierai che sarei tornato E' ancora dalla base sbagliata No se ne va Non puoi sperare di restarne fuori Ammazzate il pilota per aria Ok, perfetto